Sindaco Tallone, il carnevale torna a Fossano, tornano i carri allegorici in Via Roma, cosa dobbiamo aspettarci? Era dal 2020 l'ultima sfilata che avevamo fatto, l'ultimo carnevale a Fossano, a causa Covid ovviamente 2021-2022 non si poteva organizzare. 2020 era una decina d'anni che non si faceva una sfilata qua in Via Roma, qua a Fossano, quindi abbiamo pensato di rifarla. Quest'anno, 2023, diciamo che abbiamo delle grosse novità, la novità principale è che abbiamo coinvolto i sette borghi della città di Fossano, quindi ci saranno i figuranti dei sette borghi, sono quelli del Paglio, ovviamente ci sarà il Monarca e altra novità assoluta avremo gli sbandieratori e i musici dei Principi d'Acaia che apriranno la sfilata, quindi diciamo che è ben organizzato. Sì, abbiamo 1700 metri di percorso, ci sono sei carri, oltre mille figuranti che seguono o anticipano ovviamente i carri, quindi diciamo che è tutto ben organizzato. Devo dire anche un grazie alla Protezione Civile che metterà a disposizione 65, saranno 65 di loro proprio per seguire tutto il percorso, per dare la massima sicurezza. Oltre a 20 addetti antincendio, oltre a 10 steward, diciamo che quindi noi la sicurezza per noi è basilare ed è al primo posto. Grazie mille.